Siamo custodi di valori che si tramandano di generazione in generazione. La nostra storia continua con l'affermazione dei nostri principi nella famiglia e nella società. Vogliamo che sia così, oggi più di ieri e domani più di oggi. Ci ispira l'esempio di chi ci ha preceduti. Le nuove generazioni ci seguono e continueranno un giorno il nostro lavoro. Porteranno avanti con entusiasmo il segno della nostra tradizione. Rinnoviamo sempre il nostro impegno di collaborazione con chi affronta le emergenze del presente e le sfide per un futuro più sicuro. Abbiamo affrontato le sfide più impegnative e abbiamo realizzato imprese straordinarie. Per questo, l'Associazione Nazionale Carabinieri sarà sempre la nostra casa.